La mascherina giapponese che traduce in otto lingue. Buongiorno e bentornati al Caffettino, io sono Mario Moroni e come ogni giorno in questo podcast parliamo, come se fossimo davanti alla macchinetta del caffè, di tematiche che ci possono interessare a noi imprenditori, professionisti del mondo marketing e non soltanto. Oggi parliamo di una mascherina realizzata da una start-up giapponese, questa mascherina intelligente che traduce in tempo reale in otto lingue, perlomeno così dice la start-up giapponese. Stiamo parlando della Danat Robotics e questa mascherina Seaface, si chiama così, e viene definita la prima mascherina intelligente al mondo. Era tra l'altro allo studio già prima della pandemia da coronavirus, perché come sapete nel mondo asiatico è costume, ormai è normale utilizzare una mascherina comunque in generale per camminare. Insomma, fatta di plastica si potrà portare sopra la mascherina tradizionale e collegata al nostro cellulare con il bluetooth fondamentalmente permetterà di tradurre in tempo reale le parole che stiamo dicendo amplificate da delle casse all'interno di queste mascherine, insomma, tradotte in tempo reale in otto lingue, quindi dal giapponese al cinese, inglese, francese, indonesiano, coreano, spagnolo, thailandese e vietnamita. E voi vi chiedete ancora, ma l'italiano? L'italiano non c'è mai ragazzi, lo sapete bene che siamo sempre in fondo alla classifica. Insomma, notizia interessante perché chiaramente potrebbe essere molto utile. Per il momento la startup ha raccolto 20 milioni di yen, che sono più o meno 220 mila euro, quindi insomma una cifra importante in solo i 37 minuti appena è attivo il sito di crowdfunding. Insomma, fondamentalmente le prime 5 mila maschere smart dovrebbero essere disponibili in Giappone, chiaramente, da settembre a un prezzo intorno ai 40 dollari. Quindi insomma, interessante, interessante anche perché secondo me potrebbe risultare un servizio non soltanto utile per quelle situazioni, appunto coronavirus, ma anche per, in generale, per la vita di domani, per far sì che diventi anche questo un gadget che ci permette di viaggiare all'interno del mondo senza perlomeno inizialmente parlare la lingua del luogo, no? Quando ci sarà l'italiano sarà ancora secondo me molto più utile per noi, ma come sempre la scalabilità delle lingue è appunto un fattore molto semplice, nel senso basta che questo crowdfunding funzioni, il business giri e poi chiaramente arriveranno tante le altre lingue. Però pensate, a questa funzionalità in Europa potrebbe veramente esplodere, potrebbe spaccare perché appunto le mascherine talvolta le indosseremo anche per andare nelle grandi città, per cui insomma non si sa mai, non si sa mai. Mi è piaciuta come idea, come suggerimento, come novità da segnalarvela per affrontare questa settimana sempre più poliglotti, sempre più digitali, sempre più, come dire, tradotti in un'unica lingua del mondo, ovvero insomma la comunicazione in questo caso, anche tradotta. E finisce qui il nostro caffettino di oggi, che sia un'ottima settimana per tutti, fate i bravi, mangiate le verdure, se volete chiacchierare con me venite sul gruppo Telegram Mario Moroni canale e poi da lì accedete al gruppo. Ci vediamo domani, mangiate le verdure, fate i bravi, ciao!